Sospesa temporaneamente la circolazione in via Rettusa, nella parte vicina all'incrocio con la via Salemi, infatti, si sarebbe verificato lo scorso sabato 19 febbraio un cedimento del manto stradale. Interruzione al traffico dunque in quel tratto di strada per evitare ulteriori pericoli per i veicoli di passaggio, stabilita dopo un sopralluogo effettuato dai vigili del fuoco, dal personale di Caltacqua e da quello irreperibile della direzione dei lavori pubblici del comune Nisseno. Nell'ordinanza del 20 febbraio vengono indicate anche le modifiche alla circolazione per i residenti e operatori commerciali della zona. Fino ad ultimazione dei lavori di ripristino del manto stradale viene ordinata infatti la sospensione temporanea della circolazione veicolare in via Rettusa, tratto di strada compreso tra il Civico 6 e la via Salemi, nonché nel tratto di strada compreso tra la Piazza Europa e la via Carducci, si legge. E ancora la sospensione temporanea dell'ordinanza che prevedeva l'istituzione del senso unico di marcia in via Rettusa, tratto di strada compreso tra la Piazza Europa e la via Salemi, l'istituzione del doppio senso di circolazione di marcia in via Rettusa, tratto di strada compreso tra la via Carducci e il Civico 6, esclusivamente per i residenti della via Rettusa, per gli operatori commerciali e artigianali presenti nella zona, nonché dei loro avventori, si precisa infine, ai quali è consentito l'ingresso e l'uscita dalla via Carducci.